Buonasera a tutti, saluto e ringrazio Claudio Castiglioni per aver aderito alla nostra richiesta. Con Claudio più che altro volevo fare solo qualche domanda, una piccola chiacchierata, si è parlato molto, si è discusso molto di questo evento che appunto non sarà più organizzato quest'anno. Come si pronuncia? L'Ok in Prosite, innanzitutto buonasera a tutti. Esatto, l'Ok in Prosite è soprattutto per noi bustocchi, ma io credo anche per chi è abituato, ormai sono diverse edizioni che sono state fatte a partecipare, è una mancanza che si fa sentire, soprattutto per i ragazzi che magari aspettavano il mese di settembre per questo grande evento che non so quante migliaia di persone ha racchiuso negli ultimi anni, ma per essere stato un partecipante abbastanza assiduo, devo dire che i tendoni erano sempre pieni. Allora Castiglioni, non siamo qui per fare nessuna polemica, questo occorre precisarlo, siamo qui per sentire un po' la versione da una parte, ma anche tutti quegli aspetti che da utente, da frequentatore di questa manifestazione non si conoscono, per cui c'è dietro alle spalle tutta un'organizzazione che non è stata fatta da una settimana, ma con mesi e mesi di anticipo. Ah beh, questo sicuramente, l'Ok in Prosite per chi ha vissuto la festa, e chi ha vissuto la festa ci ha dato anche la possibilità di crescere e migliorarsi ogni anno di più. La città, e non solo la città, aveva il piacere di venire all'Ok in Prosite, e questo ci ha dato, era il nostro unico stimolo che ci portava a crescere ogni anno di più. Sicuramente tutti ricordano quello che c'era scritto sulla locandina, 18 giorni di festa, ma per fare e creare questi 18 giorni di festa, il lavoro di tante persone, dell'associazione, di tutti i collaboratori, anche volontari, partiva da inizio un anno, inizio un anno che diciamo era gennaio, quindi i 18 giorni di festa non erano frutto di un'improvvisazione, ma frutto di un lavoro di mesi e mesi, di persone che erano spinte dallo spirito socializzante e festoso che tutti voi avete visto l'Ok in Prosite. Ecco, il fatto di averla, diciamo, di aver deciso negli ultimi periodi di non farla, diciamo la verità, è nato anche da vicende, chiamiamole, esterne, ecco, diciamo semplicemente così. È stata presumo una decisione sofferta a livello collegiale presa con tutto il vostro gruppo? Sicuramente, sofferta sicuramente. La decisione è stata ben ponderata e sofferta, sofferta perché dopo tutto quello che si era creato è stato duro decidere di non fare più l'Ok in Prosite, o perlomeno per quest'anno. Anche perché la decisione è arrivata dal fatto che, non essendoci più quei presupposti che ci portavano e ci spingevano ad organizzare un evento del genere per Bustastizio, abbiamo deciso di fare un anno di pausa e ne approfitto per anche un po' scusarci con tutti perché le manifestazioni d'affetto sono state tantissime e tutti ci chiedono, però noi ci siamo. Ecco, ovviamente è solo una sospizione del tempo all'anno e voglio dire, l'anno prossimo riprenderà la festa. Speriamo, vediamo le evoluzioni, come si evolve la situazione. Ecco, vediamo. Ecco, non è la prima volta che succede, soprattutto che ci sia qualcuno che si lamenta quando poi alla fin fine siete voi che portate la gente. Perché quanta gente avete portato negli ultimi anni? Io non so, ma avete fatto più o meno un resoconto. No, delle stime effettive non le abbiamo fatte perché proprio come dicevo prima non sono i numeri che ci danno soddisfazione. La soddisfazione ce la dà la gente quando ci incontra e ci dimostra tutto il loro affetto. Di gente ne abbiamo portata sicuramente tanta e non solo da Busto perché la gente ne arrivava da Varese, da Milano, da Varallo, ma arrivavano anche con il Pulma. Quindi il numero secondo me non è la cosa importante. L'importante era vedere tutta quella gente che si ritrovava e che aspettava la festa come un punto di riferimento per la città di Busto. Ecco, adesso al di là di questa cosa così successa quest'anno, di questa vostra decisione, eccetera, eccetera, mi piacerebbe qua comunque sentire anche la controparte, nel senso sentire come mai è stata organizzata lecitamente, giustamente, una festa della birra, tra l'altro più o meno a grandi linee nello stesso periodo. E voi mi sembra che questa era una settimana in cui era in corso la festa. Sì, 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 oggi era, oggi era, ci doveva essere il toro oggi, no? Eh, il famoso toro, sì, perché una delle specialità della festa, che sicuramente... Domani, domani, oggi c'era il toro, si preparava... Il giovedì, è sempre stato il giovedì il toro. Certo, certo. Ecco, la carne di toro, polenta con carne di toro, è una peculiarità. No, dicevo, sarebbe bello anche sentire come mai, giustamente, lecitamente, perché nessuno dice il contrario, è stata organizzata un'altra festa della birra, quasi in contemporanea, o comunque non proprio in contemporanea, perché forse mi sembra sia il mese dopo. Comunque, come mai questa scelta che, insomma, ha lasciato quantomeno un pochettino perplessi, pur con tutta la lecità della cosa, perché questo ovviamente è da rimarcare. All'irà di questa annata, voglio dire, ma come sono i rapporti con il Comune? Pensate che magari potrebbe darvi maggior aiuto? Ma il fatto di sospendere quest'anno è appunto la volontà di dire, di aspettare, augurandoci che il nostro Comune di Bustarsizio organizzi e si possa ritornare a organizzare quello che è in Prosit, come è e è sempre stato nel nostro spirito, tutti assieme. Si parlava di polemiche, gente che si lamenta, ma le lamentele basta parlarne e discuterne. Io personalmente vivo, sono nato e sono di Bustarsizio e vorrei che questo evento diventasse un evento per tutti e una festa comune per tutti, ma non solo per chi vende birra, ma per tutta la città, perché è un forte richiamo per tutti. Quindi mi auguro che in un futuro tutte queste vicende portano ad avere a Bustarsizio una festa che poi sia la festa, non lo che è in Prosit, ma la festa di Bustarsizio. Ecco, perché ricordiamolo anche che soprattutto per molti ragazzi è anche un'occasione per guadagnare qualcosa perché hanno la possibilità di lavorare. No, questo volevo anche magari rimarcarlo. Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Io cerco di... Si dava la possibilità con voucher, si dava la possibilità ai ragazzi studenti, tutti giovani, che avevano la possibilità comunque, gente che non lavora, che sta studiando, in quel mese di potersi permettere qualcosa in più, insomma. Ecco, dovete sapere, io sono andato, prima di fare questa intervista, sono andato a vedere la pagina di Castiglioni su Facebook e non avevo dubbi, insomma. Già uno che si presenta con... Com'è che è? Dice la dicitura della tua fotografia, Dio proteggi la birra, è il lupolo. Eh beh, certo. Ecco, già la presentazione della fotografia della pagina Facebook dà già un'indicazione di chi è Claudio Castiglioni e quanto ci tiene a questo tipo di manifestazione. Tant'è vero che mi pare di capire, vedendo solo alcune delle foto, che le tue vacanze le hai fatte in un posto dove si coltiva il lupolo. Siamo tornati ieri dalla raccolta del lupolo in Olanda, sì. La raccolta del lupolo in Olanda che si effettua una volta l'anno e quindi abbiamo partecipato a questa raccolta. Va bene, allora per concludere cosa possiamo dire a tutti quelli che per anni sono venuti a trovarvi che è solo un blackout temporaneo e che presto finalmente rivedremo la vecchia festa della birra che insomma tanto ci manca quest'anno? Ma questo dobbiamo augurarcelo tutti e come ricordarvi nella pagina di Facebook tutto questo nasce dalla passione e assolutamente da nient'altro. Quindi spero e auguro che questa passione riaccenda il fuoco e l'Ok in Prozit torni a boostar Sizi. Ecco, l'augurio è naturalmente che tutte le parti possano insomma trovare un punto d'incontro perché ci deve essere per forza un punto d'incontro tra commercianti, comune e Ok in Prozit. Insomma, tutte le cose se vengono discusse si possono risolvere. Certo che se dall'altra parte magari non esiste questa disponibilità diventa tutto più difficile. Quindi per il bene di tutti noi ci auguriamo soprattutto in questo contesto lo scopo di questa intervista è questa di cercare un punto d'incontro tra le parti perché perde un'infestazione come Ok in Prozit anche per un solo anno e una perdita non solo per la città di Busto ma per tutto il bacino, per tutta l'utenza perché ricordiamo che viene molta gente anche da fuori, tantissima gente da altre regioni per cui è una perdita per tutta la città di Busto. Bene Claudio, ti ringrazio, ti saluto Io rinnoverei come ogni anno sul palco a In Prozit, Dergemutri, Kai a tutti Grazie mille Claudio, a presto Buona serata, Prozit